Marcello, ma secondo te questo riscaldamento globale è una cosa positiva o negativa? Negativa. Come negativa? Come è questo? Negativa? Scusa, ma allora perché non volevo... Ripetiamo, hai ragione, ora volevo, ora non... Ripetiamo, allora, secondo te questo riscaldamento globale è una cosa positiva o negativa? Positiva, sia per noi. Bravo, spiegale perché. Bravo, anche perché prendi una persona come me in mente eropatica, quando esco di casa e il virus vuole, come vengono fuori? Bravo, direi che questa cosa non la sapeva io, ma che se oggi mi sento? Allora io vorrei mettere... Trasmetti positività, positività vitale, non positività virus. Ho capito, un virus muore con il riscaldamento globale. Viva il riscaldamento globale! Ciao, gelessi, ciao!